Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video molto speciale perché come potete vedere dalla mia maglietta questa è la maglia della mia classe, la maglia firmata perché oggi venerdì 7 giugno 2024 è il mio, il nostro ultimo giorno di scuola. Non l'ultimo giorno di scuola come gli altri anni, come in seconda, in terza o in quarta dove l'anno dopo ricomincia l'anno, no. Questo oggi 7 giugno 2024 è il nostro ultimo giorno di scuola della nostra vita perché abbiamo terminato il nostro percorso, abbiamo finito il quinto anno di liceo e adesso non ci resta che fare l'esame di maturità. Potrei fare il video anche su quello in futuro, nelle prossime settimane quando lo farò, però oggi volevo soffermarmi su questo giorno perché è un giorno molto particolare perché gli altri giorni, cioè gli altri ultimi giorni, l'ultimo giorno di scuola, giugno, gli altri anni è visto come una liberazione, una felicità assoluta, l'arrivo dell'estate, quindi il riposo, lo svagarsi, ma una volta che arrivi al quinto anno e devi lasciare la scuola, quell'ultimo giorno di scuola della tua vita rappresenta un'era che si chiude. Perché ragazzi noi fra elementari, medi e superiori frequentiamo la scuola per 13 anni, quindi la scuola rappresenta una parte immensa della nostra vita da giovani. E il pensiero di lasciare la scuola per sempre davvero mi impressiona, mi impressiona davvero. Devo dire la verità, ragazzi, questi anni del liceo non sono stati sempre facili, nel senso che a marzo 2020, quando scoppiò la pandemia, io stavo in prima, ero appena arrivato al liceo, e metà prima e quasi tutta la seconda superiore non l'abbiamo fatta in DAD, quindi i primi anni, i primi due anni, siamo stati in presenza soltanto 6-7 mesi, in due anni. Quindi non abbiamo neanche avuto l'occasione di conoscerci chissà quanto all'inizio. In terza, eravamo in presenza ma avevamo ancora le mascherine, le misure anti-covid, quindi diciamo che il primo anno effettivamente vero del liceo è stata la quarta, perché è stato il primo anno senza covid, senza restrizioni, in cui siamo stati sempre insieme, quindi diciamo che ovviamente, almeno per me, gli anni più belli del liceo sono stati quelli quest'anno e l'anno scorso, quindi quarta e quinta. Tra l'altro l'anno scorso abbiamo fatto una bellissima gita, siamo stati in Corocera, quindi abbiamo fatto l'unica, purtroppo l'unica vera gita che abbiamo fatto in cinque anni, perché quest'anno saremmo dovuto andare a Madrid, ma a causa guerra Palestina e Israele hanno preferito non farla, non viaggiare, non spostarsi da un paese all'altro. E ragazzi, questo video non è soltanto per ricordare la scuola ai miei amici, ma è anche un messaggio per quelli che magari hanno appena iniziato il liceo o ne inizieranno a settembre. Il mio consiglio, cioè liceo ragazzi, attenzione, fra parentesi, liceo intendo scuole superiori, c'è anche quelli che non sono licei, nautico, alberghiero, itis, tutto, scientifico, linguistico, tutte le scuole superiori. Liceo non è nel senso vero e proprio del termine, nel senso di scuola superiore. Comunque, il mio consiglio ragazzi è quello di affrontare la scuola superiore godendovela e diciamo creando dei rapporti che rimangano, perché è vero che i voti sono importanti, cioè i compiti, le interrogazioni, ma alla fine ve lo garantisco, non è quello che vi ricorderete. Cioè voi uscite al liceo e non vi ricorderete i vostri voti, non vi ricorderete le vostre medie, non vi ricorderete i compiti, le interrogazioni, vi ricorderete soltanto i legami che avete creato e soltanto i legami che avete con i professori e soprattutto con i vostri compagni di classe. Poi, questo non significa che non bisogna studiare, anzi, al contrario, io sono sempre stato uno che si è impegnato tantissimo, sono sempre stato uno dei migliori della classe, sono sempre andato molto bene ed è quello che invito a fare anche voi, cioè nel senso studiate e impegnatevi sempre al massimo, ma ricordate che i voti non saranno la cosa che vi ricorderete. Io del liceo non mi ricorderò il voto di uscita, così come alle medie, io alle medie sono uscito con 9, ma non me ne frego, cioè nel senso, delle medie non ricordo il voto di uscita, non ricordo l'esame, ricordo tutti e tre gli anni, tutte le esperienze che ho fatto con i miei amici. Idem, al liceo, adesso farò la maturità, prenderò un determinato voto, ma quel voto non sarà il ricordo. Il ricordo saranno i cinque anni, saranno le esperienze che ho fatto e le amicizie che sono nate. Voi non vi ricorderete del voto di uscita, non è quello l'importante del liceo. Poi è chiaro, sì, bisogna puntare al massimo, bisogna impegnarsi, è giustissimo e lo farò e l'ho sempre fatto, ma ricordatevi che non è questo che vi ricorderete, ma voi vi ricorderete soltanto delle esperienze e dell'amicizia che avete fatto. Ho già ringraziato la mia classe, ovviamente questo è stato il nostro ultimo giorno, come vedete la maglia della quinta è 2019-2024. Tra l'altro ho iniziato a fare i video cinque anni fa quando stavo in terza media, ho iniziato a fare i video in terza media e oggi invece lascio le superiori, quindi pensate un po' come scorre veloce il tempo. Quinta è 2019, l'anno in cui ho iniziato a fare i video, 2024, che è questo, infatti abbiamo quasi finito ormai. Tutte le firme mi sono fatto firmare le maglie dai bitelli, dai professori, dai miei compagni di classe, dai altri amici. Ragazzi, alla fine è questo che vi rimarrà, vi rimarranno le scritte, le firme, i ricordi, le amicizie, ma i voti, tanto quanto, sono importanti ma peraltro non saranno il vostro ricordo, fidatevi. Ci vediamo in un prossimo video ragazzi, e voi, com'è andata la vostra esperienza a scuola? Anche voi dovete fare la maturità, fatemelo sapere nei commenti.